Questa presentazione riguarda quella parte di storia di Biplus SBRL che c'è stata prima della fondazione dell'azienda che ha portato alla creazione del processo semidefinitivo e quindi ci ha portato a identificare il problema e a pensare alle tecnologie e a cercare di risolvere questo problema tramite l'applicazione di tecnologie combinate per creare qualcosa di realmente nuovo. Inizialmente la problematica che ci eravamo proposti di risolvere era risolverne due problematiche assieme, ovvero una, il fatto che esiste una grandissima quantità di plastica che viene dispersa in ambiente, esiste una grande quantità di plastica dispersa in ambiente perché produciamo e utilizziamo tanta plastica, ogni volta che si utilizza del materiale una parte inevitabilmente finisce in ambiente e gran parte di questa plastica se non la sua totalità è scarsamente biodegradabile, per questo alcuni hanno proposto di sostituire una parte di questa plastica con un plastica biodegradabile, esistono delle alternative che anziché accumularsi nell'ambiente e trasformarsi in micro e nanoplastiche che sono a tutti gli effetti degli inquinanti persistenti, possono biodegradarsi e trasformarsi in CO2 ad acqua. Tuttavia queste bioplastiche di solito sono molto costose, più costose, fino al doppio, al triplo, a seconda delle proprietà necessarie rispetto alle plastiche fossili. Per questo abbiamo pensato di combinare questa soluzione di questo problema alla soluzione di un altro problema, perché non utilizzare un rifiuto che ha un costo tipicamente negativo, in questo caso i fanghi in depurazione, per cercare di produrre plastica. Un'altra cosa interessante tra l'altro è che vediamo le quantità della plastica, le quantità dei fanghi sono comparabili, quindi anche su base secca, quindi tipicamente le due cose potevano essere combinate, potevano essere utilizzate in modo sinerciaco, la soluzione di un problema per solverne un tutto. I fanghi, non tutti sanno cosa sono, sono essenzialmente un materiale in larga parte costituito da acqua, ma con una grande quantità di sostanza organica al suo interno, che normalmente viene prodotto a partire dal trattamento delle acque eretue. Normalmente nella nostra società abbiamo due output essenziali, oltre al CO2, uno sono i rifiuti e uno, in quantità molto più elevata, sono le acque di scarto. Le acque di scarto contengono del materiale solubile e non possono andare in ambiente direttamente, altrimenti rischiano di creare dei problemi ambientali cari. Per questo queste acque vengono trattate con un processo che è detto a fanghiattimi. Questo processo prevede di alimentare dei batteri con queste sostanze organiche disciolte e produrre un materiale che è possibile separare tramite la separazione del solido liquido, che però rimane in larga parte ancora costituito da acqua. Questo materiale viene talvolta digerito anaerobicamente, recuperando una parte del suo contenuto di sostanze organiche sotto forma di metano, ma in generale presenta costi di smaltimento elevati e ad oggi ha una grande problematica, crea impatti e costa. Per questo negli ultimi anni, circa dal 2015, fattore ci nasce la storia del polidorsi e canuato arabenna, abbiamo cercato di combinare questi due problemi e a studiare e di imparare a utilizzare tecnologie che in realtà erano già disponibili. Abbiamo provato, per esempio, che era possibile utilizzare dei batteri, culture microbiche miste, quindi a bassissimo costo. Vedete qui in basso a sinistra il primo reattore. Costava in totale circa 250 euro, incluse due pompe, prese un'asta fallimentare di un acquario e cose raccolte alla spicciolata. Analogamente, tutti i processi che ci proponevamo di utilizzare dovevano avere una affidabilità e un costo comparabile con la problematica che dovremmo risolvere, altrimenti se ci fossimo messi a utilizzare della strumentazione di Otec, pur utilizzando del rifiuto, saremmo finiti per avere un processo che sarebbe costato troppo ancora e quindi poi di nuovo la bioplastica avrebbe avuto un costo troppo elevato. Invece il nostro idea era quella di trasformare la bioplastica in commodities, di completare direttamente sul costo con i combustibili fossili. Bene, nel corso degli anni abbiamo quindi realizzato e una delle caratteristiche chiave del processo di ricerca che abbiamo condotto è stato quello di andare direttamente alla creazione di piccoli prototipi. Questa non è la parte scientificamente più difficile, però richiede di interrogarsi e richiede di sporcarsi le mani e di vedere effettivamente se le cose funzionano. Tramite questo approccio abbiamo imparato tantissime cose su varie tecnologie coinvolte e questo è uno degli aspetti peculiari dell'idea di PLAS, ovvero conoscere un po' di tanti argomenti. In un certo senso l'interdisciplinarietà. Non a caso più PLAS nasce proprio Scienza Ambientale Gravenu, perché è un posto fertile dove è possibile trovare competenza di biologia, di chimica, di termochimica, di fisica e di tematiche ambientali più vaste, per esempio la gestione dei rifiuti, che sono fondamentali per mettere assieme un processo realmente circolare che vada a utilizzare un rifiuto per produrre una plastica. Qui vedete le primissime, diciamo, foto della primissima versione delle varie componenti che costituiscono di PLAS. Il PLAS è costituito brevemente da un processo di carbonizzazione endotermale, che prende il fango e libera la frazione di carbonio utilizzabile da parte di batteri anaerobici, che sono all'interno del digestore anaerobico. Vedete qui un esempio, la fermentazione all'interno di un sistema, una bottiglia di 5-6 litri, che trasforma queste sostanze rese solubili dalla carbonizzazione endotermale in acidi grassi volatili. Gli acidi grassi volatili sono dei composti molto semplici, che sono la base della produzione di polidrossi al canuato a partire da culture microbiche miste, che invece sono degli altri batteri, in questo caso aerobici, che producono PHA. Questi batteri vengono poi raccolti e successivamente vengono estrati attraverso un processo di estrazione, che abbiamo sviluppato ex novo con l'ottica di avere un processo il più possibile green, seppur basato su un solvente organico. A questo punto è quindi arrivato fortunatamente il finanziamento della Climate Kick, del progetto B-Plus Demo, che ci ha portato di fatto a interrogarci sulla possibilità di creare un dimostratore, cioè mettere assieme tutte le tecnologie, migliorarle, risolvere gli ultimi problemi e creare un processo con una scala sufficiente per essere interessante a livello industriale. Abbiamo quindi combinato quattro processi chiave, cioè la carbonizzazione endotermale, la digestione anaerobica e la separazione solido-liquido, la digestione aerobica, che sono sostanzialmente delle vasche contenenti batteri per la produzione di PHA tramite il meccanismo Fister-Panel, e infine l'estrazione con un solvente green, cioè con un solvente sostenibile, che non creasse più problemi di quelli che cercavamo di risolvere. Come vedete vari passaggi erano caratterizzati da un punto di partenza differente e quindi abbiamo cercato di velocizzare quelli più indietro e di dimostrare quelli che erano più maturi, unitamente all'idea di mettere tutto assieme, che non è mai banale a livello industriale. Anche quando si mettono assieme processi esistenti bisogna lavorarci, bisogna comunque cercare di coordinare il tutto e far avvenire tutto il processo con una certa armonia. Fortunatamente abbiamo avuto questa possibilità per l'appunto di creare un processo dimostrativo che è stato posto in un contesto molto interessante, che è quello della bioraffineria di Cabiro Extra, la Fenza. Cabiro Extra è una destilleria inizialmente ed è diventata una bioraffineria, nel senso che trattando il proprio fango, trattando altri scarti agricoli e trattando fango proveniente dalla filiera agroalimentare delle miglia romani e di altre regioni, di fatto si presenta come un bel contesto dove testare la circolarità. in questo contesto ci siamo posti come obiettivo quello di prendere il digestato derivante dalla digestione anaerobica dei fandi, quindi già lo scarto derivante dal trattamento degli scarti e ottenere per l'appunto del polidroso e il canoato in un contesto industriale reale. Qui vedete appunto dove è l'impianto dimostrativo, una bella foto con dei bei colori dopo un temporale e vedete appunto com'è costituito. Tutte le componenti sono componenti industriali standard, abbiamo dovuto metterle assieme, abbiamo fatto anche tanti errori e abbiamo imparato da questi errori. Proprio il fatto di fare e di imparare molte cose che prima non sapevamo ci ha poi permesso di interfacciarci con realtà industriali, prima tra tutto per l'appunto acceptance che poi ci ha accompagnato nell'ultimo miglio della dimostrazione industriale e quindi della creazione dell'azienda, che attualmente per l'appunto si occupa di migliorare ulteriormente questo processo e di portarlo finalmente a uno sviluppo commerciale. Grazie a tutti per l'attenzione e vi lascio alla successiva presentazione riguardante Biplass SBRL. Biplass è una società benefit che si propone di rendere la nostra società e gli ecosistemi antropici sostenibili attraverso la valorizzazione di rifiuti in senso circolare, grazie a un processo combinato in grado di ridurre i fanghi reflui da inviare a smaltimento e contemporaneamente di convertire il carbonio organico in bioplastiche, PHA, polidrosso alcanoati. Biplass è anche una startup innovativa costituita nel febbraio 2021 a Lugo di Romagna e incubata all'interno di DM Filtration che ha creduto nel processo e nella proposta di valore fondante e ha deciso di non essere solo investitore finanziario ma di aggiungere un'infrastruttura concreta fatta di competenze manageriali e ingegneristiche, esperienza di progettazione di grandi impianti industriali, capacità gestionali di filiera e non ultimo le officine di assemblaggio. DM Filtration da decenni è un leader globale nelle tecnologie di separazione solido-liquido industriali. Propone tecnologie che permettono ai modelli lineari di sfruttamento e gestione delle risorse di essere più sostenibili. Qualche anno fa DM Filtration ha deciso di rimettersi in gioco e dare nuove risposte a quella parte di società che sostiene fortemente un Green Deal italiano ed europeo e ha quindi voluto ridefinire la propria identità e professionalità in un ambito di economia circolare. Parole chiave, fanghi reflui, innovazione tecnologica, radicamento al territorio. La costituzione della startup innovativa Bplus è stata una conseguenza naturale di questo processo. Un nuovo approccio circolare e innovativo nato nella sede di Ravenna dell'Università di Bologna e le nuove competenze di processo hanno incontrato un'azienda solida e strutturata desiderosa di mettere in campo le proprie competenze ingegneristiche e tecnologiche in un nuovo contesto globale. È così, Bplus integra competenze biotecnologiche e chimiche di processo a quelle ingegneristiche di impianti e le mette a sistema per trasformare un rifiuto sempre più problematico e in crescita quantitativa, cioè i fanghi reflui, in una nuova risorsa ad alto valore aggiunto, cioè le bioplastiche. Il processo è diviso in due moduli costituenti che chiamiamo amichevolmente modulo fanghi e modulo pha. Il modulo fanghi è una sequenza di processi chimici, termici, meccanici e permette la drastica riduzione dei quantitativi di rifiuti da inviare a smaltimento. Allo stesso tempo converte parte del carbonio organico dei fanghi reflui di depurazione in acidi grassi volatili, che solubilizzati nella fase acquosa costituiscono l'alimentazione del successivo modulo pha. A questo punto il modulo pha converte quegli acidi grassi volatili in una biomassa ricca di pha, grazie a processi digestivi aerobici condotti da culture batteriche miste, le cosiddette MMC. La circolarità del processo si espleta in più modalità contemporaneamente, dirette e indirette. Il primo vantaggio diretto è la riduzione dei rifiuti da inviare in discarica o a termovalorizzatore o ad altri destini di fine vita. Di conseguenza è ridotta indirettamente la necessità logistica dei trasporti connessi, che per lo più sono fatti via camion. In secondo luogo sanifica le acque e semplifica il loro recupero dai processi industriali, rendendola nuovamente disponibile all'ambiente. Infine genera un nuovo prodotto che è biologico, biodegradabile, compostabile, ad alto valore aggiunto e in grado di sostituire buona parte dei polimeri di origine fossile utilizzati oggi. È un team multidisciplinare innanzitutto, composto da giovani e brillanti ricercatori provenienti dell'università, affiancati da profili senior sia di estrazione accademica sia di andale. Questo è un mix che garantisce concretezza e affidabilità nell'industrializzazione di un processo che è fortemente innovativo, nato e sviluppato nel mondo accademico. Le discipline tecnico-scientifiche sono ampiamente rappresentate dalla biologia alla chimica industriale, dalle scienze ambientali all'ingegneria e riuscire a integrarle tra loro è al tempo stesso una necessità e una sfida nella sfida. La buona notizia è che ci stiamo riuscendo, nonostante non sia né immediato né banale far dialogare estrazioni e formazioni così diverse tra loro. Aggiungo un elemento non scontato per il mondo industriale italiano. Noi siamo una società benefit e non esiste un gender gap in B+. Donne e uomini hanno pari dignità e rappresentanza, è garantita ampia flessibilità lavorativa ai dipendenti e gli obiettivi tecnologici non sono scissi da quelli societari, si devono integrare. Nel suo insieme tutto questo rende B+, un grande esperimento, faticoso, sfidante, ma anche ambizioso e stimolante. La prima sfida è senz'altro quella di scalare industrialmente la tecnologia, quindi di trovare un partner che ci dia la fiducia necessaria per realizzare un demo plant in grado di produrre PHA in quantitativi significativi che ci permettano di avviare gli studi merceologici e le sperimentazioni di formulazione dei prodotti finiti in PHA. A questo si associa il piano di crescita e sviluppo del know-how tecnologico strategico, che inevitabilmente dovrà passare dall'assunzione di nuovi profili scientifici altamente qualificati, preferenzialmente nell'ambito delle tecnologie sostenibili. Penso all'ingegneria energetica, all'ingegneria chimica, alle biotecnologie delle culture batteriche miste. Contemporaneamente stiamo completando il laboratorio interno per condurre sperimentazione in regime continuo su campioni reali provenienti da diversi processi industriali. Tutto questo presuppone che Bplus prosegua attivamente una strategia di ricerca e sviluppo continua e che affianchi e sostenga la commercializzazione della tecnologia proprietaria. che siano sempre più attratte dalle discipline scientifiche e dalla loro applicazione alle tecnologie green. Saranno loro ad attuare quel green deal europeo che oggi è ancora perlopiù un grande programma di intenti. Bplus cercherà di essere pronta ad accoglierli.